carissimi amici ben ritrovati sul mio canale il super ambosecco di venezia molta attenzione perché ho una serie di convergenze che mi portano a consigliarvi un solo ambo da giocare bene sulla ruota di venezia questo lo possiamo giocare proprio tutti perché parliamo di due numeri secchi a ruota secca è una giocata veramente di alto spessore speculativo grande investimento fate molta attenzione a questo ambo che vi vado a cedere in modalità vincita venuta cosa vuol dire se esce l'ambo a ruota c'è il pagamento della vincita come al solito mi raccomando a non perderlo parliamo di una minima spesa una minima proprio un minimo investimento per andare a realizzare una massima resa vincente c'è una convergenza su questi due numeri incredibili su venezia spero che i fatti vi daranno ragione che possa cadere proprio questo ambo sulla ruota di venezia essendo un solo ambo come recupero una buona puntata tutte le ruote la possiamo anche fare e partiamo dall'estrazione di giovedì primo aprile per massimo 13 colpi un solo ambo a venezia quindi contattatemi mi raccomando non perdetelo o via mail o al numero whatsapp 348 75 47 715 che vedete qui mi raccomando a non perdere il superambo secco di venezia perché se tutto va bene andrà a cadere a ruota secca per adesso saluto a tutti mister sbancolotto